ciao ragazzi e bentornati nel mio canale fantasticamente in dove oggi parleremo della retta di eulero e lo faremo partendo come facciamo spesso da alcune definizioni che ci serviranno in seguito partiamo dalla definizione di circocentro il circocentro è il punto di incontro degli assi di un triangolo cioè il centro della circonferenza circoscritta l'incentro invece è il punto di incontro delle bisettrici di un triangolo cioè il centro della circonferenza inscritta l'ortocentro è il punto di incontro delle rette a cui appartengono le altezze di un triangolo infine il baricentro è il punto di incontro delle mediane di un triangolo bene si può dimostrare che dato un triangolo qualsiasi circocentro baricentro e ortocentro sono sempre allineati e la congiungente è detta retta di eulero tra un attimo sicuramente capirete meglio il tutto anche grazie alle animazioni ma soprattutto alla fine di questo tutorial saprete rispondere a due domande che vengono spesso proposte in merito a questo argomento prima di tutto se la retta di eulero è definita per qualsiasi triangolo e poi a quali condizioni si verifica che anche l'incentro appartiene alla retta di eulero ma bando alle ciance cominciamo subito consideriamo un triangolo qualsiasi dividiamo a metà ognuno dei lati tracciamo gli assi dei lati queste rette si intersecano in un punto che è detto circocentro e che è anche il centro della circonferenza che circoscrive il triangolo tracciamo ora le mediane del triangolo congiungendo il punto medio di ogni segmento con il vertice opposto le mediane si incontrano in un punto che è detto baricentro possiamo dimostrare che il baricentro divide ogni mediana in due parti in cui una è lunga il doppio dell'altra tracciamo infine le altezze relative ad ogni lato anche queste si intersecano in un punto che è detto ortocentro bene dovete sapere che fu il matematico svizzero eulero che dimostrò per la prima volta che il circocentro il baricentro e l'ortocentro di un triangolo sono sempre allineati la retta su cui giacciono questi punti è chiamata infatti retta di eulero dimostrò inoltre che la distanza fra il baricentro e l'ortocentro è il doppio di quella fra il baricentro e il circocentro la retta di eulero è sempre definita no c'è un'eccezione in un triangolo equilatero ortocentro baricentro e circocentro coincidono dunque non individueranno un'unica retta proviamo infine a chiederci se anche il centro della circonferenza iscritta nel triangolo cioè l'incentro appartiene alla retta di eulero per determinarlo tracciamo le bisettrici degli angoli del triangolo e notiamo che in generale l'incentro non appartiene alla retta di eulero ma secondo voi questo è vero sempre no nel caso particolare di un triangolo isoscele dato che un'altezza un'asse una mediana e una bisettrice coincidono allora anche l'incentro apparterrà alla retta di eulero bene ragazzi io spero che adesso sia tutto un po più chiaro che vi sentiate più sicuri nell'affrontare i compiti e soprattutto le temutissime interrogazioni se questa lezione vi è piaciuta lasciate un like o un commento e condividetela coi vostri amici infine per non perdervi le prossime iscrivetevi al canale ciao